Le amministrazioni hanno l'onere dell'invio delle dichiarazioni entro il 6 del mese successivo a quello di riferimento delle trattenute. È possibile tuttavia, a seguito del confronto con la sede IMSS di riferimento ed esplicita autorizzazione della stessa, chiudere una dichiarazione anche in periodi successivi. In questo caso, la sede ha già abilitato alla chiusura una dichiarazione del maggio 2009. Per procedere quindi alla chiusura della dichiarazione è sufficiente selezionare la dichiarazione relativa al maggio 2009 e cliccare in alto Chiudi dichiarazione. L'operazione può ritenersi conclusa.